Oggi parleremo della cacciotta di vacca modicana. La vacca modicana è una razza di vacche rosse autottone siciliane che produce un latte di alta qualità da animali allivati al pascolo. È un formaggio a latte crudo, dolce e fresco, gradevole con retrogusto di latte caldo e borro. Viene stagionato 7 giorni. La cacciotta di latte modicana è un formaggio fresco gradevolissimo a tavola che si sposa benissimo anche in cucina. Con questo formaggio prepareremo una parmigiana di malanzane con cacciotta di latte di vacca modicana fresca. Grazie per la visione!